Ciao, sono Steve, il fondatore di LingQ. Con questo metodo ho imparato dieci lingue. Su LingQ non insegniamo le lingue, devi impararla per conto tuo, con un po' d'aiuto, ovviamente. Poniamo che tu voglia imparare lo spagnolo. Comincerai con una lezione della biblioteca di spagnolo. Incontrerai parole che non conosci, evidenziate in blu. Si passi sopra con il mouse, vedrai tre suggerimenti per quella parola. Seleziona uno o clicca su Suggerisci per aggiungere un altro. Ottimo, hai appena creato un link. La parola blu è diventata gialla e apparirà in giallo in tutti i testi futuri. Per imparare qualsiasi lingua, devi creare tanti ma tanti links, non solo per le parole sconosciute, ma anche per quelle di cui non sei sicuro. I tuoi links non saranno mai di troppo. Ripassa i tuoi links usando le schede, i closed test o la nostra applicazione per iPhone. E ricorda di ripassare i links gialli in ogni lezione. Scarica i file audio nel tuo lettore MP3 e ascoltali molte volte. L'ascolta è l'elemento chiave. Ascolta mentre vai al lavoro, fai ginnastica o lavi i piatti. Tutti i giorni. Questo processo di lettura e ascolto ti aiuterà a parlare la lingua fluentemente. Quando hai finito, passa una nuova lezione. È così semplice. Se hai domande, richiede aiuto nel forum. Ben presto vorrai inviare testi scritti e partecipare a conversazioni con i tutor. Parlerai spagnolo in men che non si dica. Buona fortuna!